Mesdames e Messieurs, il premio Nobel per la pace 2018 ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Medico attivista e pastore protestante, Mukheye è noto in tutto il mondo per aver denunciato le terribili violenze subite dalle donne congolesi durante la guerra civile che ha dilaniato il suo paese e per aver fondato il Pansi Hospital, ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella cura dei danni fisici causati da stupro. Ad accogliere il premio Nobel le autorità e gli studenti del luogo che in corteo hanno accompagnato Mukheye all'inaugurazione di due graffiti a lui dedicati. Insomma una giornata davvero importante per il piccolo comune del napolitano, guidato dal sindaco Massimo Buonanno. Sentiamo. Oggi è un giorno storico per Sant'Antimo, abbiamo ospitato addirittura il premio Nobel per la pace del dottor Denis Mukheye al quale abbiamo avuto l'onore di conferire la cittadinanza onoraria. Come potete vedere dietro di noi questi splendidi murales che ci sono stati donati dal consolato del Congo e dall'artista internazionale Ciambrone. Il giorno prima a Mukheye è stata conferita anche la laurea onoris causa dell'Università di Napoli Federico II in gestione delle politiche e dei servizi sociali.